La droga era nascosta dentro un piccolo contenitore in latta e è bastato un semplice controllo dagli agenti del commissariato di polizia di Vittoria per capire che quel giovane incensurato che insieme ad un amico era stato fermato in sella ad uno scooter ad un posto di blocco nascondeva qualcosa. Una perquisizione personale ha fatto il resto. Addosso al giovane conducente del veicolo gli agenti hanno rinvenuto la scatolina metallica contenente ben 11 confezioni termosaldate di cocaina. La droga è stata posta sotto sequestro. Gli esiti del laboratorio relativi all'accertamento qualitativo e quantitativo presso i laboratori di sanità pubblica dell'ASP di Ragusa hanno confermato la natura dello stupefacente. Si tratta di cocaina. Per Renzo Calisto, 25 anni, magazziniere vittoriesi, sono scattate a quel punto le manette ai polsi. L'altro giovane, un vittoriesi di 23 anni, che è stato trovato in possesso di due stecchette di hashish, è stato invece segnalato alla prefettura, ufficio territoriale del governo, in qualità di assuntore di sostanza stupefacente. Il controllo è avvenuto alle prime luci dell'alba odierna e rientra nell'ambito dell'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai giovani che hanno trascorso la serata in locali pubblici. I due ragazzi sono stati condotti in commissariato e, dopo gli accertamenti di rito, Calisto è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa. Dovrà rispondere anche del reato di porto abusivo d'armi. Infatti, nella tasca dei pantaloni aveva una nocculiera, strumento del quale è vietato in modo assoluto il porto.